18 milioni e mezzo di euro in arrivo per finanziare 49 progetti di innovazione, aggregazione e agricoltura sociale già in graduatoria all'interno del programma di sviluppo rurale 2014-2020. Le ha messe a disposizione la giunta regionale toscana e il loro utilizzo è stato illustrato a Firenze dall'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. Sicuramente risorse per aggregare la filiera, risorse per valorizzare molti progetti innovativi, peraltro questi progetti non sono di esclusiva proprietà di chi li ha proposti, sono a disposizione anche per altri imprenditori che volessero, diciamo così, andare in un certo tipo di direzione, avere un orientamento. Nello specifico 9 milioni e 472 mila euro sono destinati a sei dei nuovi progetti integrati di filiera, ammessi ma rimasti esclusi per carenza di risorse, negli ambiti del latte bovino, del vino, dell'olio, della flora vivaistica e del tabacco per i sigari. 7 milioni e 357 mila euro poi per 25 piani strategici dei gruppi operativi incentrati sull'innovazione e 1 milione e 600 mila euro per 18 progetti di agricoltura sociale nell'ambito di giovani sì per l'integrazione di persone disabili e svantaggiate in agricoltura.